Let's go! Bentornati ovetti su Kirby Triple Deluxe Replay! Nello scorso episodio abbiamo completato il livello 1 e il livello 2 dell'ultimo mondo, il mondo 6, Nuvola Nobile! E oggi andremo nel livello 3! Indovinate un po' che bisogna fare in questo livello, vista la miniatura del livello stesso! Per chi ha risposto tornare nel primo mondo di gioco, avete mezzo sbagliato! Comunque sì, qui siamo in foreste fiorite, un'altra volta, e c'è un motivo se quel varco dimensionale ci ha portato qui, ma ve lo spiegherò a breve. Prima devo dirvi una cosa che riguarda questo frutto e in realtà tutti quanti gli altri frutti della pianta dei sogni, mi avete detto, ed è una cosa che già sapevo ma non importa, che è possibile aspirare il frutto al posto di toccarlo. Lo sapevo già, si fa così... Ma è una cosa completamente inutile perché non cambia niente! Comunque sì, il motivo per cui adesso siamo un'altra volta nel primo mondo di gioco è che i sectoniani si stanno preparando per invadere Dreamland, ok? È ovviamente non esplicitamente detto, però sì, alla fine vuol dire quello, infatti ora ci sono i sectoniani, alberi da aspirare e compagnia bella. Sì, sì, siamo nella fase finale del gioco dopo tutto, quindi ha senso anche trovare cose particolari rapa, distruggi tutto quanto, grazie. E adesso viaggeremo di mondo in mondo grazie ai varchi per provare a trovare altre pietre del sole e portachiavi rari, inoltre devo finire il livello altrimenti non posso andare avanti, quindi sì. Allora, Odissea Oscura, abbiamo saltato il mondo 2 per una ragione molto particolare che vedremo tra due secondi ma non importa, quindi portiamo avanti la testa di pallino senza farla cadere. Ovviamente, quando è vero che siamo un'altra volta nei vecchi mondi, non dobbiamo fortunatamente rifare tutti quanti gli stessi identici livelli dell'altra volta, ok? Hanno comunque cambiato qualcosa, come per esempio la presenza di questa pupazza di neve qua sopra. Ora, assorbiamo i brontolotteri sectoniani, non septoniani, e andiamo avanti. Suggerimento? Ora andate, ok? Cercate di non far infiammare la pupazza di neve, ovviamente può sfiorare le fiamme, non si scioglierà subito, ma state attenti, ok? Dovesse rimanere per troppo tempo sul fuoco, ovviamente si scioglierà, quindi sì. Allora, Mister Pupazzo di Neve invece non ci dovrebbe dare nessun problema perché siamo abbastanza freschi, eh? Capita? C'è abbastanza spazio per portare entrambe le teste dei pupazzi ai loro rispettivi corpi, ma stiamo attenti lo stesso. Assorbiamo i sectoniani e andiamo avanti. Un'altra cosa che devo rettificare, è un errore mio in effetti, vi ho detto che i sectoniani non danno abilità tranne quello dell'abilità lancia. Non è vero, ci sono anche sectoniani che danno abilità arciere e mi sembra anche altri sectoniani che diano altre abilità, forse parasole, però tutti questi sono sectoniani che hanno in realtà oggetti in mano, e sì, pietra del sole. Quindi in realtà stare più assorbendo l'oggetto che hanno in mano e non il sectoniano che dà l'abilità di copia. È tanto per dirlo, non è niente di troppo rilevante, ma potrebbe interessare a qualcuno. Oddio, Tonks si è sbagliato, ma pazienza. Livello 4, o meglio, mondo 4. Rovine rocciose. Qui, state attenti. Assorbite la palla di metallo, fatela brillare giusto un po', e poi basta, ok? Vi serve questa piattaforma qui per prendere il portachiavi raro, o forse il secondo coso del sole. Perché altrimenti non potrete indietreggiare abbastanza per rompere questo blocco, smash, che altrimenti si poggerà su questa entrata, impedendovi di andare avanti. Ok, mio caro, senti, fatti mangiare... Mi conviene non finire quella frase, vero? Ok, andiamo in questo scenario nuovo. Ed eccoci qui, nel mondo 2, credo. Sì, è il mondo 2. Ora, stiamo attenti. Viene da paparino. Ok, è qui che c'è la cosa rara. Sì, portachiavi raro, perfetto. Doveste voi decidere di prendere l'altro portale, perché c'è un altro varco dimensionale sopra. Vi porterà semplicemente nella prossima area? Almeno credo. Ora vedremo, quindi... Teripotation! Vediamo se ho ragioni oppure no. Dovrebbe però, vero? Sì, ok. Quindi quel varco era opzionale, ma l'abbiamo preso perché ci serviva. Quindi andiamo. Trapaniamo un'altra volta tutto quanto. C'è anche una statua. Posso trappanare i denti di qualcuno. E sì, ve l'ho già detto, sectoniani con l'abilità parasole. Ovviamente non possiamo prendere l'abilità parasole oggi, ma non importa. Trapaniamo tutto quanto, baby! E gli distruggiamo anche la testa, perché non abbiamo neanche fatto un po' di anestesia, ma non importa. Ok, andiamo in fretta magari. Cerchiamo di non essere bruciati, quindi... Attenzione. Vai, Kerbe! Ok, un po' più veloce. Ok, un po' più lento, Kirby. Piano, piano. Gli va piano, va sano e va lontano e non si scotta soprattutto. Mister! Si sta facendo un bagno lavico. Aspetta, vai, vai. Prego. Ok. Adesso trapaniamo e finiamo questa parte senza essere bruciolati dalla lava. Ok. Ah, due bellissimi waddle di pronti per essere risucchiati. Scusate, ogni tanto esce Tot, ma non ci posso fare niente. Anche questo scrigno in realtà è opzionale. Una volta ottenuti mi sembra sei pietre del sole. Potete anche andare avanti... Scusate, sette. Potete anche andare avanti ignorando le altre. Se non volete fare il cento per cento, ovviamente. Io voglio fare il cento per cento e quindi le devo prendere comunque tutte quante. Non che sia un problema, però... Però... Andiamo avanti. Dove siamo adesso? Oh, aspetta. Questo è il mondo 2. Quell'altro era il mondo 3. Ops. Oh no, Tonks si è sbagliato, davvero. Ma non è un problema, quindi risucchiamo questo missile. Vi ricordo che vi danno oggetti. Non sono estremamente necessari, ma vi possono dare oggetti di cura, quindi... Oh, siete caduti nelle spine. Potete comunque prendere roba. C'è qualcosa qua? Sì, ma fermi. Ok, ok, fermi. Dovrebbe esserci qualcosa di opzionale qua sopra, allora. Verò? Non mi ricordo dove, ma c'è una cosa extra. Credo che sia leggermente più avanti, quindi ho sbagliato. Quindi... Oh no, Tonks ha davvero sbagliato. Però, sì, vediamo un po'. Ricordo che esiste... Forse è qua. Sì, è qua sopra, ok. Posso ignorare questa cosa? No, devo per forza affrontarla. Ok, quindi è qua sopra. Vieni qui, dammi il razzo. Addio. Non andate laggiù, ok? C'è qualcosa di extra da prendere, ossia un'altra pietra del sole. Quindi, vieni qua. Oh no, ho parato il coso spinoso, ok. Dammi il razzo. E bam! Perfetto. Come faccio la porta a non restare dov'è? Visto che è una porta... Vabbè, non lo so. Lo sanno i creatori del gioco, non io, no? Allora, vediamo un po'. Ah, sì. Il famigerato... Eh? Il famigerato pulsante viola. Ve l'ho detto, miei cari. Esiste un pulsante viola. Che è un on-off. È un interruttore, in sintesi. Quindi vediamo un po' se riesco a fare di tutto. O meglio, tutto il possibile per prendere quella pietra del sole. Che poi, scusate, una pietra del sole congelata. Se lo so, ha poco senso. No? Non mi interessa. Quindi vai. Sciogli tutto. Apriamo questo. Richiudiamo questo. Ah ah, sei tristi adesso, vero? Perché ho preso l'ultima pietra del sole. Perfetto. Ora posso andare avanti. E anche finire il livello. Ammetto di non ricordare cosa c'è. Adesso. A fine del livello. Ma pazienza. Devo per forza andare giù. Ok, quindi. Comunque bisogna per forza scendere. Quindi davvero quella è una cosa davvero opzionale. Ma scialla. Razzetti. Non è un problema. Quindi dammi un altro razzetto. So che me lo vuoi dare. Perfetto. Sbam. Ce l'ho fatta? Ho distrutto qualcosa? No? Ma adesso sì. Ricordo. È sempre meglio distruggere questi apparecchi che creano razzi. Perché vi possono dare oggetti buoni. Quindi perché non prenderli, insomma? E possiamo adesso andare avanti? Beh, sì. Per forza. Che ci attende qui? Beh, siamo tornati finalmente nel... Nell'ultimo mondo, insomma. Nuvola nobile. Ora devo solamente spostare questa statua e... Ah, che bella razzo. Chissà cosa rappresenta, vero? Oh no, come faremo adesso? Hanno anche distrutto la statua. Beh, possiamo andare, non lo so, nello sfondo per assorbire il tank. Abbiamo addirittura mangiato la porta per uscire. Poi però l'abbiamo risputata perché a quanto pare Kirby può decidere cosa mangiare e cosa sputare. Anche se ha lo stomaco pieno. Ed è una cosa leggermente inquietante ma non importa, ok? Soprattutto se sapete la vera storia di Kirby che è stata raccontata in Star Allies. Ma non importa perché ho fatto uno pieno, aggiungerei. Quindi buon per noi. Quindi il premio. Vai, sì, 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 ok? Portachiavi. Non raro, Kabula! È tempo di fare... Kabula rasa! No, però Kabula è un boss che adoro, ok? Adoro affrontare Kabula in Superstar Ultra. Kirby Jet, già preso, ok? Portachiavi raro. Disegno di Lanternino. Nota bene. Lanternino è il disegno, non il pittore. E mi avete detto che ci sono due pittori nella saga Kirby. Ossia un maschio, questo, e la femmina che è simile ma ha il... Come si chiama? La giacca turchese. Ma non importa. Kirby Lama che avevo già. Kirby Sonno, ok? Aggiungerei una cosa su Kirby Sonno. L'unico gioco utile... O meglio, l'unico gioco dove Kirby Sonno è utile è... Sì, come no? È Topi all'attacco, ok? Perché lì potenziando l'abilità, perché si possono potenziare l'abilità, è possibile prendere Sonno che vi cura. Ma pazienza. Livello 4. Un'altra risfida ai boss? La risposta è sì, quindi andiamo, riaffrontiamo un'altra volta tre boss. Inoltre, avrete notato come... Beh, sì, tecnologia adesso. Tanta, tanta, tanta tecnologia. Al posto di, non lo so, non tecnologia e insetti. C'è un motivo? Ni, eh... Beh, i portali devono venire da qualche parte, quindi ovviamente, sì. Però ne discuteremo più avanti. Non è il momento di parlare di questa cosa, ok? Più che altro perché potrebbe essere anche lieve uno spoiler per il boss finale. E quando è vero che io ho già finito il gioco e quindi potrei anche parlare del boss finale, vorrei trattare questo let's play come se non avessi fatto un vecchio let's play, ma pazienza. Ok, grazie mille, bandana di... Andiamo avanti. E sì, sto usando l'abilità martello perché è buona. Tanto per mostrarvi quanto può essere buona in effetti. Quindi vediamo un po'. Wop! E adesso, portale dei boss. Un attimo, è sempre meglio controllare perché potrebbero esserci blocchi da rompere sopra i portali. Occhio. Il ritorno di Artis. Come vi ho già detto, non c'è nessuna descrizione diversa, ok? Quindi non importa. Artis, per favore, venga qui. Non mi colpisca. Signorina, la prego. Ok, vieni qua, Artis. Ok? Fire! Visto quanto può essere forte l'abilità martello, in solo due colpi caricati l'ho già devastata. Anche se vorrei anche ricordarvi che in effetti i boss hanno meno vita. È normale che abbiano meno vita, ok? Quindi chiedo scusa se vi ho ingannato un po', ma pazienza. L'abilità martello è potentissima, anche perché uno fa danni estremi, seriamente. Due ha alcuni frame di invincibilità, come questo per esempio. Quindi, sì. Inoltre, possiamo fare così per colpire in aria Artis. Venga qui, signorina. E... Sbam! Non è ancora finita? Ok, ancora no. Questo è finto, quindi attenzione. Oh no! Quelle palle di cannone si possono, se non sbaglio, assorbire. Non dovrebbero darvi nessuna abilità, ma non importa. Addio, Artis. Ed eccoci qua un'altra volta. Ricostituente, grazie mille. Allora, vorrei cambiare abilità. Tuttavia, chi è il prossimo boss? Non credo sia Vulcan. Riaffronteremo Vulcan, ma non voglio usare martello. Di sicuro non voglio usare martello. Ok, martello è troppo potente. Ci fosse un'altra abilità che non sia arciere, perché non voglio arciere. La prenderò subito, ma... Pazienza. Ah, c'è Spino. Ok, Spino sia. Vai. Spino! Allora, vediamo. A meno che non ce ne sia un'altra di abilità... Eh, no. Ruota non è molto buona contro... Ah, è vero. Vero, 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 vero. Ora non c'è davvero Vulcan. Dovrebbe esserci Flowery, giusto? Mio caro Flowery Woods, fortunatamente ti posso colpire più e più volte. Allora, fai quello che devi fare. Noi possiamo usare le spine per demolirti completamente. In effetti, come ho già detto, non ho mai usato così bene Spino, ma... Sembra funzionare. Già è nello sfondo, quindi perché no? Inoltre ricordo che abbiamo questo attacco che non fa praticamente nulla, ma... Pazienza. Oh no! Oh no, davvero! No, aspetta, no! Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, sono vivo. Pensavo mi colpisse e non so neanche io perché. Allora, potere delle spine. Meglio usarlo. Ok. È un gran peccato che non ci sia... Un'altra... Aspetta, questo che fa non mi ricordo. Ah sì, mi ricordo adesso. Così. Davvero pensavo di ingannarmi, caro? Peccato che non ci sia... Com'è che si dice? Un altro attacco che c'era in Kirby's Adventure Wii, dell'abilità spino. Praticamente vi consente di trasformarvi in una... Ok. In una ruota di spine. Solo che forse era troppo simile all'abilità ruota e quindi l'hanno tolto. Non è un problema. Ciao ciao, Flowery Woods. Adesso spero vivamente di trovare l'ultima pietra del sole, visto che ce n'è solamente una. Altrimenti non so dove andare. Allora, andiamo qui. Oh, lancia. Ci manca Vulcan da affrontare. Giusto? Sì, ok. Quindi qualcosa di buono contro Vulcan. Forse lo troverò. Sapete che lama potrebbe essere la soluzione? Qualche altra cosa c'è? Frutta? C'è campana. Come... Come... Oh sì. Mi sa che ci conviene prendere lama. Lo so. Magari è brutto, ma lama è molto sicura come abilità. Quindi perché non prenderla? Dovesse esserci un'altra migliore, la prenderò, ma ora come ora, lama sia. Allora, vediamo un po'. Dov'è che devo andare per andare avanti? Sto contro... Devo andare sopra, ok. Qua è possibile prendere la bailita campana. Ok, non ci serve. C'è qualche frutto? Qualcosa da mangiare? No, ok. Ci hanno in... Ci hanno in effetti... Mi hai trollato. Come osi trollarmi? Ci hanno in effetti dato già altra roba da mangiare, quindi non dovrei lamentarmi. E in effetti... Dai, sì, perché no? Allora. Ah, ok. Perfetto, sì. Qua sotto... Oh, foglia. Foglia contro... No, 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 no. A parasole può... Oh. No, usiamo lama, ok? Se non c'è un'altra abilità, usiamo lama, davvero. Comunque sì. Qui è possibile andare verso l'ultimo boss, oppure, se evitate tutto quanto... Grazie. È possibile andare nel lato sinistro di questo scenario per... Vai. 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 Rompere questo blocco e prendere la pietra del sole, quindi grazie mille gioco. 6-4. Ripeto, grazie. Inoltre... No, inoltre niente. Ripeto, potrei prendere altre abilità, non mi va. Quindi non le prenderò. E allora, siamo pronti per riaffrontare Vulcan. Giusto? Sì, vai. Vai. Consiglio, fate così. È pratico e potreste in quel modo evitare alcuni attacchi di Vulcan. Io posso caricare la lama? Sì. Ok, posso. Mi dimentico sempre che questo attacco si può fare, ma... Lancio! Ok, attenzione. Appena va per terra, possiamo fare la... Non questa combo, ma... Non importa quanto pare ha funzionato, quindi vai. Ci sarebbe un attacco che non ha mai fatto. Manco a farla apposta. È questo? Quindi, sì. Olè! Addio, addio. Niente, perfetto. Comunque sì, quell'attacco lì non l'abbiamo mai visto. È la Fontana McDonald. Non lo so. Ok, però sì. È raro che lo faccia, ma lo può fare. Allora, vuoi venire qui o vuoi lanciare le rocce? Che si possono distruggere molto rapidamente con lama, quindi... Ah! Dove siamo? Ok, no, no, no. Fermi, fermi, fermi. Ok. Vuoi bruciarsi lo schermo, ma non mi trollerai. Non così tanto. Fai il tuo giro. Perfetto. Ok. Combo! Adesso, attenzione. Non voglio assolutamente perdere. Però c'è. Ok. Scialla. Abbiamo lama. No! Mi ha colpito lo stesso. Come osi tu colpirmi lo stesso? No! Ok. Sputa. Ok. No! No! Ah, oh mamma mia. Non voglio perdere davvero adesso, quindi... Attenzione, attacco l'apico. Grazie. Non è un problema. So come evitarlo. Roar! Ripeto che in realtà questo è un coniglio! Ed è una cosa molto strana affrontare un coniglio l'apico, ma pazienza. Ora qui volate e basta, perché il getto è basso, ma pazienza, ripeto. Allora, torni qui. Vai! Ok. Combo. La combo fa davvero parecchi danni, non me lo sarei mai aspettato in effetti, ma non importa. Ok. Combo effettuata. Adesso via. Perfetto. Non so dove vuole fermarsi, quindi devo stare attento. Perfetto. E mi sa che ce l'ho... Fatta! Fatta! Ma sicuramente avrete notato che non ho ancora preso il portachiavi raro. Già. C'è un motivo? Certo che c'è un motivo. Lo prenderemo adesso. Prima di tutto, però, prendete il Maxim Tometo. Soprattutto se volete farmare questo livello. Non so perché voi dovreste voler farmare questo livello, visto che vi ho già detto che il livello migliore, se non sbaglio, per farmare portachiavi è il livello 4-1, ma pazienza. Portachiavi raro, grazie mille. E adesso che siamo tornati qua sopra, c'è qualcosa qua in alto? Credo di no, ma sempre meglio controllare. Non c'è niente, ok. Era solamente per completare il riquadro, insomma. Va bene, taglia. Ho detto taglia. Oh, oh, sfiata sopra il blocco, Kirby. Non importa. Non importa davvero. E adesso possiamo uscire. Salta! Focus. Beh, no. Per niente. Non importa, non importa. Allora, portachiavi. Eccolo qua. Allora. Se il nome corretto sarebbe Waddle di Aiutante, tuttavia è Bandana di. Ha più senso, è più carino. Fine. Duc desac. Disegno di King de Dede. Dello scuro disegno, appunto. E basta. Che strano e serino floreale, vero? Tuttavia, lo faremo nel prossimo episodio, a quel livello. See you next time, baby. Tuttavia, la mia e levità. E' la mia e levità. E' la mia e levità.